Ciao, io mi chiamo Mario abbiamo venduto un appartamento difficile da vendere perché al quarto piano senza ascensore per cui non era facile ma grazie ai consigli di Katia abbiamo seguito quello che ci ha detto e alla sua professionalità siamo riusciti a venderlo in pochissimo tempo e anche a un prezzo più alto di quello previsto la professionalità di Katia è stata così grande che ci ha aiutato moltissimo a venderlo addirittura in meno di un mese per cui è al di fuori di ogni aspettativa Katia è abbastanza è sincera schietta non indora se è una cosa più di tanto non vale te lo dice chiaro e tondo la sincerità è fondamentale in questo rapporto venditore proprietario perché chiaramente si instala una fiducia che poi porta alla fine alla vendita insomma senza questo non c'è possibilità di concludere siamo felicissimi e se possiamo darvi un consiglio affidatevi veramente alla sua professionalità, alla sua bravura, alla sua capacità ciao